Numero 5. L'imbrago di Alpidex è un'ottima scelta per chi ama arrampicare in modo comodo e sicuro. Con taglia unica e regolabile, si adatta perfettamente a diverse corporature, offrendo un comfort eccezionale grazie ai suoi materiali di alta qualità, come il poliestere e gli anelli in nylon. Le fibbie scorrevoli a doppio cursore e la chiusura in acciaio al carbonio sono garanzia di un utilizzo ottimale e la pratica chiusura a tre fibbie rende l'imbrago facilmente regolabile. Inoltre, la cucitura doppia all'estremità delle cinghie previene il rischio di scivolamento, offrendo una maggiore sicurezza durante l'arrampicata. Trovi il link di questo articolo in descrizione. Numero 4. Il nuovo imbrago di Petzl è stato progettato per soddisfare le esigenze di tutti gli amanti degli sport di montagna. Con la sua tecnologia Frame Technology, garantisce una vestibilità impeccabile e una distribuzione ideale del peso tra cintura e cosciali, per un comfort senza pari durante la pratica dell'arrampicata, dell'alpinismo o delle vie ferrate. Grazie alle due fibbie sulla cintura, l'imbrago è regolabile in modo semplice e veloce, adattandosi sempre perfettamente al corpo e da qualsiasi tipo di abbigliamento. In basso nella descrizione del video trovi il link del prodotto. Numero 3. L'imbrago unisex in poliestere blu è la scelta ideale per gli amanti dell'arrampicata su vie ferrate. Leggero ma allo stesso tempo robusto, è dotato di una cintura e cosciali regolabili grazie alle sue sicure fibbie. Con una sola asola per il materiale, l'imbrago è studiato per un uso sicuro e confortevole sulle ferrate. Oltre alla sua versatilità, si adatta facilmente a tutte le corporature degli adulti, garantendo una sensazione di solidità durante l'uso. Un prodotto affidabile e di qualità che permetterà agli appassionati di arrampicata di godersi al massimo l'esperienza. Se ti interessa questo prodotto o vuoi sapere il suo prezzo, clicca il link in descrizione. Numero 2. Non solo funzionale, questo imbrago è anche leggero e facile da indossare, rendendolo ideale per lunghe giornate in parete. L'imbrago da arrampicata è uno strumento indispensabile per chi pratica l'alpinismo o l'arrampicata su ghiaccio, e questo modello è sicuramente una scelta eccellente. Grazie a una cintura lombare ergonomica e resistente, offre un ottimo sostegno alla schiena, ideale per affrontare lunghe arrampicate o scalate impegnative. Inoltre, il sistema di chiusura del pettorale è regolabile ed elasticizzato per garantire una perfetta vestibilità. Se ti interessa questo articolo trovi il link in descrizione. Numero 1. Questo imbrago è una scelta sicura e conveniente per gli amanti dell'arrampicata. La sua regolabilità lo rende adatto a diverse tipologie di avventura, garantendo sempre un perfetto comfort grazie alla cintura lombare e ai cosciali scorrevoli. Le tre fibbie permettono un'adattabilità perfetta a qualsiasi corporatura, mentre l'anello di servizio arancione previene errori di legatura e i due portamateriali sono comodi e spaziosi. Inoltre, il casco Galaxy incluso è un ottimo bonus per una protezione completa. Puoi vedere il prezzo di questo articolo cliccando nel link in descrizione.